Fino a Mindola, regista ma anche protagonista di questo spettacolo godibilissimo Grazie Ma come ti è venuto in mente? Beh, sai, primo sono molto felice che finalmente su certi argomenti si possa scherzare in maniera divertente perché non sono più un tabù perché la nostra mente finalmente si è aperta anche su certi argomenti In genere questo genere di spettacolo racconta di un gay che si finge etero per qualche motivo, per la sua famiglia non lo so, e qui invece è il contrario, è un etero presunto tale che si finge gay perché ha uno zio ricchissimo che vive in America gay, che detesta le donne e che gli ha promesso il suo patrimonio a patto che lui si sposi con un uomo e chiaramente lo zio arriva a Natale a Roma, lui non ha assolutamente un fidanzato ma c'è una fidanzata che è cascia via di casa e convince il suo vicino che è un rude professore di educazione fisica romano interpretato magistralmente da Massimo Corvo, la voce di Stallone e tante altre a fare il suo fidanzato, chiaramente si creano una serie di equiuti di gag interessanti ma anche le fidanzate puoi citare i nomi delle artiste? le fidanzate che sono straordinarie, abbiamo Annalisa Favetti che fa la fidanzata di Massimo Corvo e Claudia Portale che è la mia fidanzata molto burina esatto, e lo zio? e lo zio che è Mario Scaletta, arriva alla fine e rimescola le carte perché noi pensiamo che lui si comporti in un certo modo e invece succede tutt'altro ecco, diciamo che dovete venire a vederlo per capire la legge delle 3S, shopping, shopping, shopping ma che significa che devi comprare? Compri più semplice, ripeto è tutto strappiero, non c'è più posto esatto quando lo riprenderemo? esattamente, questo è uno spettacolo che ti auguro e che abbia un successo nazionale grazie ecco, a proposito di teatro, quando si sa recitare bene noi siamo di Good in Italy, Wattini, che parliamo di eccellenze italiane cosa si può fare per valorizzare questo teatro? allora, i musei sono riusciti a metterli a posto, ma il teatro? diciamo che c'è un'attenzione maggiore ai musei che non ai teatri, sicuramente e magari sono patrimoni che in qualche senso danno un'idea di stabilità maggiore ma io credo che un teatro sia qualcosa di importante, ma forse di più di un museo che fermo lì, il teatro è qualcosa in movimento come facciamo a giudicare una città straordinaria quando ci andiamo? diciamo, ah, è una città piena di fermento, piena di musei, ma piena di teatri, di attività culturali ci sono mostre, ci sono incontri, ci sono persone che suonano è questo che rende una città viva e straordinaria grazie, grazie mille per questo tuo messaggio buon anno buon anno grazie a tutti